Musica Eccoci con ora TG, bentrovati, apriamo con la cronaca Catania, si delineano nuovi particolari sullo giovane gambizzato la notte scorsa a colpi di pistola i poliziotti sono risaliti all'identità di uno dei conducenti delle due autovetture a bordo delle quali, in una di queste ovviamente, è stato condotto il ferito in ospedale. Vediamo insieme il servizio. I poliziotti sono risaliti all'identità del conducente di una delle vetture che la notte scorsa ha accompagnato al pronto soccorso del Policlinico di Catania, un 21enne di San Giovanni Galermo gambizzato da un colpo di pistola. Il soccorritore avrebbe raccontato di aver rinvenuto la vittima ferita in via San Zenone e di averla accompagnata in ospedale. Racconto che non avrebbe trovato conferme nella ricostruzione da parte degli investigatori. Il ferito è figlio di un indagato condannato in primo grado nell'ambito dell'inchiesta a Scandenberg risalente al 2020 che consentì di disarticolare 12 piazze di spaccio. Rimane da definire luogo e dinamica della sparatoria su cui indaga la squadra mobile di Catania. Il giovane residente nel popoloso rione di San Giovanni Galermo ha piccoli precedenti penali e non avrebbe un ruolo di rilievo all'interno delle organizzazioni criminali della zona. Da chiarire le circostanze e il momento del grave episodio delittuoso che potrebbe essere connessa ad una faida tra gang rivali per il controllo del territorio di una delle più fiorenti piazze dello spaccio etneo. Non si escludono questioni di altra natura, forse scaturite da fatti personali, tra le ipotesi e il vaglio degli inquirenti. Uno sgarro verbale e qualche apprezzamento sentimentale alla persona sbagliata tra le motivazioni che avrebbero scatenato la reazione a colpi di pistola. Proseguono gli interrogatori da parte dei poliziotti e di parenti e conoscenti del 21enne nei pressi dell'abitazione del giovane nel popoloso quartiere di San Giovanni Galermo alla ricerca di indizi utili alla ricostruzione dell'accaduto. Il giallo potrebbe essere chiarito dal racconto del ferito che verrà ascoltato dagli inquirenti nelle prossime ore. Sotto gli occhi degli agenti della Polizia di Stato intervenuti dopo una chiamata al numero di emergenza, uno giovane di 25 anni già sottoposto a TSO si è lanciato dal balcone di uno stabile con l'intenzione di suicidarsi. Siamo a Catania, l'impatto con il sole è stato per fortuna attutito dai rami di un albero e il giovane dopo essersi alzato da terra ha tentato la fuga ma è stato bloccato dagli agenti ed è stato portato in ospedale con un'ambulanza. A Giarre due rapine in pochissimi minuti, le immagini di uno dei colpi messo a segno i commercianti dicono i nostri microfoni ci vorrebbero più pattuglie anche a piedi. La moto di grossa cilindrata che sfreccia lungo Viale Libertà, il conducente che arresta il mezzo a due ruote davanti a questo negozio di cosmesi, profumerie e articoli per parrucchieri. Siamo a Giarre, scende il passeggero, lo vedete il volto travisato da un casco integrale indossa un giubbotto di colore verde scuro e dei pantaloni grigi. Si dirige con fare sicuro verso la cassa, la sradica dal bancone e scappa. Pochissimi secondi la durata del colpo messo a segno ieri sera a danno di questo esercizio commerciale. Il registratore contabile stamattina è già stato sostituito. I due, come ci racconta la titolare, hanno agito senza armi. C'erano quattro i dipendenti che avevano già abbassato le sere cinesche esterne delle telecamere, delle vetrine laterali e avevano messo la porta in modalità manuale lasciando l'apertà solo per un terzo perché stavano facendo la chiusura a cassa ed si erano spostate leggermente dietro quel bancone. Entra all'improvviso un uomo col casco integrale nel giro di due secondi. Era da solo? Era da solo ma c'era il complice che lo aspettava qua fuori con la moto accesa. Infatti entra, strappa la cassa e scappa e subito partono via. Quanto hanno portato via? L'incasso della giornata, meno male che voglio dire il lunedì è magro, quindi siamo intorno ai 1.200. Non c'è stato neanche il tempo, ci diceva, di rendersi conto. No, perché ho visto poi i filmati delle telecamere nostre e si vedono le ragazze che vedono entrare questo tizio e è un'attività di due secondi, lo rincorrono, ma già era andato via. E non è escluso che i due siano gli stessi che pochi minuti dopo hanno fatto irruzione in questa ricevitoria e rivendita di tabacchi nella centralissima piazza San Vito Martire a Macchia. Qui bocche cucite, i malviventi avrebbero minacciato i dipendenti con una pistola in pugno. I titolari di entrambi i negozi si sono ritrovati dai carabinieri denunciando episodi analoghi. Da lì l'ipotesi che possa trattarsi degli stessi soggetti. Le telecamere anche qui hanno ripreso tutto, le forze dell'ordine che indagano sarebbero già sulle loro tracce. Quindi io suppongo siano gli stessi, però non so, magari era giusto la serata. Magari più pattugliamenti in zona comunque... Sicuramente, sicuramente servirebbero pattugliamenti in auto ma anche a piedi. Senta, negli ultimi mesi pare ci sia una recrudescenza di fatti criminali, furti d'auto. Questo ho sentito. Sicuramente anche in pieno giorno tentano di rubare le macchine, molto spesso ci riescono. Che percezione avete della sicurezza qui a Giarre? Ma devo dire che... Siamo sempre stati presi d'assalto dalla delinquenza qui a Giarre. Il fatto che abbiate le telecamere, questi filmati sono già nelle mani dei carabinieri. Sì, 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 fanno tutto già. Anche filmati delle telecamere dei negozi vicini, proprio per cercare di vedere se si vede la targa. Il mezzo più o meno è stato descritto. Domenica mattina la Polizia di Stato ha interrotto un rave party organizzato alla Playa Siamacatani. I poliziotti giunti nell'area di parcheggio vicino alla spiaggia libera numero 2 hanno avuto conferma delle informazioni ricevute su musica ad alto volume e schiamazzi, notando diverse auto parcheggiate su una strada interpoderale. Poco dopo, su un terapieno, hanno scorto alcuni ragazzi, casse acustiche di grandi dimensioni e un gruppo di alimentazione. Quindi scattato l'intervento, fermati i giovani ancora presenti. I poliziotti hanno proceduto all'identificazione e controlli per la verifica di presenza di alcolici o stupefacenti. Dopo aver individuato il probabile organizzatore del rave party, gli hanno sequestrato il sistema di amplificazione e il gruppo elettrogeno che lo alimentava. Colpi di pistola in una sala cinesca di un centro scommesse a Palermo. Sette colpi in tutto esplosi contro la sala cinesca di questo centro scommesse di sbrigo pratiche situato nella zona della Fiera del Mediterraneo di Palermo. Il fatto avvenuto con esattezza in via Ruggero Marturano, traversa di via Miraglio Rizzo, ha tutta l'area di una intimidazione. Sull'episodio accaduto lo scorso venerdì sera sta indagando la polizia. Secondo una prima ricostruzione, i responsabili sarebbero arrivati a bordo di un mezzo, forse uno scooter, e avrebbero aperto il fuoco colpendo la sala cinesca dell'attività e il muro. Almeno 6-7 i colpi esplosi, ben visibili in queste immagini che ritraggono la sala cinesca in metallo, forata in più punti ravvicinati tra loro. Gli agenti della squadra mobile sono intervenuti dopo alcune telefonate pervenute al 112 ad allertare le forze dell'ordine alcuni residenti che hanno udito gli spari indirizzati verso l'attività. Gli investigatori hanno sequestrato le immagini e riprese da alcune telecamere di videosorveglianza. Sono stati eseguiti i rilevi balistici con il supporto del personale della scientifica. È stato sentito inoltre il titolare dell'attività. Da racconto che ha fornito alla polizia però non sarebbe emerso alcun elemento utile per risalire ai possibili autori di quello che può essere letto come un chiaro segnale intimidatorio. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa dagli investigatori che stanno iniziando a scavare per ricostruire i contorni della vicenda. Tre quadri olio su tela con cornici di fattura rubati nell'aprile del 2013 al museo civico Guzzone di Militello in Val di Catania sono stati recuperati dai carabinieri della stazione di Acicastello e del comando tutela patrimonio culturale di Siracusa. Erano nel garage di un 69enne che è stato denunciato per ricettazione di opera d'arte. Il valore complessivo è stimato in circa 100 mila euro. I dipinti ritrovati sono due bambini in stile lezioso riselenti alla fine del Settecento con stile ascrivibile al pittore francese Boucher, poi console Cornelio inginocchiato davanti a un angelo in atto di sottomissione del potere civile al potere religioso. Disciuti e quindi donna Gaetanina Baldanza con vestito bianco e girocollo attribuito a Sebastiano Guzzone, il proprietario del garage, è dichiarato di averli acquistati in una bancarella di un mercato catarese ma non è stato in grado di dimostrarlo ai carabinieri. Nel 2023 nella provincia di Catania i fenomeni criminali di maggiore rilievo al patrimonio culturale sono stati l'aggressione a quelli di natura archeologica e di antiquariato e nello specifico sono state denunciate 7 persone e in totale su 10 perquisizioni effettuate. Ricorderete l'incidente stradale a Palermo, un'auto che ha roto a un pedone a calde 5 giorni fa in fin di vita, è stato ricoverato in ospedale, purtroppo è deceduto, si cerca ancora il pirata della strada. Le foto sul suo profilo social lo ritraevano sempre sorridente. Emanuele Magro, il ragazzo di 33 anni investito a Palermo da un pirata della strada la notte tra il 22 e il 23 novembre, alla fine non ce l'ha fatta, è morto in ospedale dopo 5 giorni di agonia. Il ragazzo, ricoverato al civico di Palermo, era stato trovato ferito in Viernesto Basile nei pressi del parcheggio Amat. Quando è stato trovato, Magro era riverso sull'asfalto, un'auto in corsa con molta probabilità lo ha travolto. L'automobilista alla guida della vettura, che lo ha preso in pieno, non si è fermato per dare assistenza alla vittima. Secondo le ipotesi degli investigatori che indagano sulla vicenda, il pirata sarebbe fuggito lasciandolo a terra sanguinante. Quella notte, quando è stato soccorso dai sanitari del 118, Magro, trovato in stato confusionale, aveva riportato alcuni traumi provocati dall'impatto. Trasportato in codice rosso al civico, le sue condizioni inizialmente non sembravano gravissime. In seguito però si sono aggravate. Il ragazzo, che di mestiere faceva l'autotrasportatore, è finito in terapia intensiva. Ieri si è spento. La notte dell'incidente, Emanuele Magro stava andando a lavorare e aveva il turno notturno. Per lui era una sera come tante altre, mai avrebbe immaginato fosse l'ultima a non darsi pace famiglia e amici di Emanuele, che adesso chiedono giustizia. La scomparsa del giovane ha lasciato un vuoto incolmabile nella sua famiglia. Terzo di quattro figli, Emanuele, è cresciuto con il padre, due sorelle e un fratello, perché la mamma li ha lasciati prematuramente. La procura ha aperto un'inchiesta finalizzata ad accertare in quali circostanze il 33enne si è rimasto ferito. Nulla è emerso al momento dalle telecamere di videosorveglianza della zona, esaminate dagli agenti dell'infortunistica della municipale, che da giorni hanno avviato le indagini per intracciare il pirata della strada. Appresa la notizia della morte, numerosi messaggi di cordoio sui social. Che dispiacere che mi stai dando, scrive un collega di Emanuele. Fino all'ultimo ho sperato, domenica. Sono venuto per vederti, ma con scarsi risultati. Stamattina, finito di lavorare, il mio pensiero, collega mio, sei stato tu. Sono arrivato e ho visto il gelo e la notizia. Mi ha davvero toccato molto, ti ricorderò sempre, collega mio. Ti voglio immaginare adesso dove sei, con la tua cara mamma. Riposa in pace. Finisce al collegio di disciplina dell'Università di Palermo il caso di un professore di medicina che tre allievi accusano di atteggiamento sessista nei loro confronti. La vicenda era partita da una lettera anonima ricevuta dal rettore Massimo Midire, ora confermata da tre specializzande. Midire aveva spedito la missiva alla procura e adesso ha chiesto una relazione al professore Giovanni Pantuso, responsabile dei 19 specializzandi in chirurgia. Purtroppo abbiamo avuto riscontri alla lettera anonima dichiarato il rettore, per questo è stato attivato il consiglio di disciplina. Gli specializzandi saranno tutti sentiti prima di ascoltare il professore sotto accusa che potrà presentare le contradduzioni e indicare eventuali testimoni. Gli effetti devastanti del dimensionamento scolastico su scala nazionale, tagli del 10%, circa 800 istituti siciliani perderebbero l'autonomia oltre un centinaio di scuole. La preoccupazione del CGL che ovviamente interpreta il sentimento di molti dirigenti scolastici. Vediamo. Il piano di dimensionamento scolastico previsto dal Governo nazionale in Sicilia come in altre regioni sta creando polemiche e malumori. Nella nostra regione si perderanno 105 autonomie scolastiche e in particolare a Catania 17 istituti saranno costretti a chiudere i battenti. Attualmente una scuola che ha al di sotto della soglia dei 900 iscritti, come previsto dalla normativa nazionale, dovrà confluire in un'altra. Una scelta dell'attuale Governo che mira a ridurre del 10% il numero delle autonomie scolastiche per eliminare le reggenze dei dirigenti e dei direttori amministrativi. Una manovra che punta ad un risparmio di circa 88 milioni di euro, ma secondo FLC CGL colpirà le aree interne della nostra regione e le piccole comunità scolastiche, peggiorando inevitabilmente il sistema di istruzione già fortemente penalizzato da dati allarmanti di dispressione scolastica. Il dimensionamento può produrre esiti differenti, raggruppabili in due differenti soluzioni. Le istituzioni scolastiche che cessano di esistere con conseguente istituzione di un nuovo istituto e le istituzioni scolastiche che acquisiscono cedono sezioni, sedi, coordinate o plessi. Può dunque accadere che a seguito del dimensionamento della rete scolastica si determinino delle fusioni fra scuole, soppressioni o che alcune succursali o plessi confluiscono in altri istituti. La FLC CGL Catania si oppone al dimensionamento scolastico, lanciando una petizione online. Noi insieme alla FLC Sicilia stiamo presentando una petizione affinché questo scempio non si avveri perché nel territorio siciliano si perderanno da quattro anni 105 autonomie scolastiche e in particolare a Catania già dal prossimo anno 17 istituzioni scolastiche verranno soppresse. Quindi si toglieranno dei presidi nel territorio dando per scontato che questo non possa creare danni alla società. Mentre invece sappiamo benissimo che intanto ci sono 17 dirigenti scolastici che perderanno la sede. Insieme a questi 17 direttori amministrativi e anche del personale ATA che ovviamente è connesso con le segreterie delle scuole. Non solo, nel momento in cui ci saranno dei numeri esigui è chiaro che i plessi verranno accorpati automaticamente. Quindi è chiaro che nel territorio si avrà una riduzione dell'offerta formativa significativa. I governi cercano sempre di fare cassa con la scuola, chiamata il famoso banco mat dei governi. Ma questo è veramente un risparmio esiguo perché 88 milioni di euro non rappresentano sicuramente un risparmio necessario. Ma bensì in una zona come la Sicilia, un meridione che già ha i suoi problemi di dispersione, di povertà educativa, questa finanziaria va ad affossare ulteriormente quello che potrebbe essere una significativa evoluzione affinché nelle scuole ci possa essere maggiore personale e non ridurre il personale. Ringrazio tutta l'Università per questo risultato. Mi sento responsabile del consenso ricevuto, prometto il massimo impegno. Lo ha detto Giovanna Spatari, eletta Rettore dell'Università di Messina con 624 preferenze. La prima volta per una donna nell'Ateneo messinese, era già nella squadra di Cuzzocre, il precedente Rettore che si è dimesso perché coinvolto in un'inchiesta su rimborsi per milioni di euro. Ha raccolto invece 555 voti il professore Michele Limosani, ordinario di Medicina del Lavoro, il nuovo Rettore, lavora appunto all'Università degli Studi di Messina e direttrice del Dipartimento ad attività integrata dei servizi nell'azienda ospedaliera universitaria Martino. Da angeli del Covid ha dimenticati dei giorni nostri nel limbo del sistema sanitario. Parliamo degli operatori sociosanitari, oggi congresso nazionale della Will FLP a Catania, proprio sull'argomento. Vediamo. Furono gli angeli, gli eroi, nelle diverse corsie degli ospedali in epoca Covid e poi sono stati messi da parte e praticamente dimenticati. Lo denuncia la Will FLP che oggi a Catania ha tenuto un congresso per ribadire la funzione centrale degli OS, gli operatori sociosanitari che chiedono di certo miglioramento salariale, ma anche una normativa certa che equilibri un sistema, quello sanitario, probabilmente non ancora al passo con i tempi. Dopo oltre 20 anni dell'introduzione degli operatori sociosanitari è arrivato il momento di pensare a una evoluzione sia dello profilo professionale, sia della parte normativa, ma anche e soprattutto della parte economica. Questi operatori che durante la pandemia hanno svolto un ruolo importantissimo, sono stati centrali, sono stati definiti angeli, eroi. Finita la pandemia la politica li ha dimenticati. L'inizio della Will FLP vuole proprio riportare al centro le esigenze di questa categoria professionale che è fondamentale all'interno del servizio sanitario, sia pubblico che privato. E noi ci aspettiamo da parte del Parlamento un intervento che va a valorizzare la figura degli operatori sociosanitari. Sono circa 300.000 gli OSS in Italia, ma questa è solo una stima perché di fatto non esiste neanche un registro nazionale che possa anche dare corpo alle legittime esigenze di professionisti che quotidianamente lavorano nelle corsie, ma anche per le leggi sono quasi fantasma. Perché a volte la politica è distratta da tante cose. Noi pensiamo che la pandemia invece ci ha insegnato che oggi ogni risorsa destinata alla sanità, oltre a migliorare le prestazioni ai cittadini, ha un riverbero positivo su tutto il sistema economico e produttivo del Paese. Per questo chiediamo più fondi per il servizio sanitario nazionale. Bisogna stabilizzare il personale, fare nuove funzioni, riportare il livello degli operatori, sia medici, paramedici, amministrativi nella sanità, nella media europea. E il punto fondamentale è salvaguardare la sanità pubblica. La ULFPL pensa che la sanità pubblica sia fondamentale per il futuro del Paese. Una sanità pubblica a doppia, forse tripla, quadrupla, velocità tra una regione e l'altra, con discrepanze evidenti tra nord e sud, centri urbani, medi, grandi, piccoli, ospedali, periferici, sedi diseggiate. Insomma, anche la figura dell'operatore socio-sanitario si inserisce in un quadro più ampio, frastagliato, con ampi margini di miglioramento. La situazione è isolana. Sì, il bacino è molto ampio. In Sicilia contiamo oltre 20.000 operatori socio-sanitari, ma di questi una grossa fetta è disoccupato. Teniamo conto che al concorso di bacino dell'ASP si sono presentati più di 10.000 persone ed era un concorso solo per la Sicilia orientale. Quindi pensiamo di averne almeno 15.000 disoccupati in tutta la regione. E allora, in una sanità dove mancano i medici, mancano gli infermieri, riteniamo che rivedere i coefficienti, gli standard per l'operatore socio-sanitario rispetto ai posti letto potrebbe essere in questo momento uno strumento utile da utilizzare per migliorare l'assistenza sanitaria nella nostra regione, sia ospedaliera, sia in ambito domiciliare. L'attività all'ARS, il governo Schifani è andato sotto oggi sul bilancio consolidato della regione, nonostante la maggioranza avesse i numeri dal voto palese, ha messo un tabellino pari, 28 voti per i sì, 28 per i no, ma il regolamento in questo caso fa prevalere, in caso di parità, il voto negativo. La giunta regionale è stata convocata d'urgenza, ha riapprovato il bilancio consolidato con le modifiche tecniche che sono state promosse dall'assessore all'economia Falcone. La nuova stessura si è resa necessaria, infatti, dopo l'esito del voto all'ARS. Tra l'altro, da segnalare anche un siparietto, l'ex presidente della regione, è eletto nelle file della centrodestra, Gianfranco Miciche ha votato contro, il suo voto è stato determinante, dopo la votazione si è rivolto verso i banchi dei colleghi di centrodestra dicendo in dialetto, accusivi, insignati, ma avete buttato fuori. Adesso la palla torna nuovamente all'ARS. Migranti e migrazioni non solo nel Mediterraneo, il dialogo tra civiltà entra nelle agende del governo, ma spesso rimane lì. Se ne parla a Catania, nell'ambito del forum, dialogo tra civiltà e democrazia globale. I conflitti, tutti, ma in specie quello in atto tra Israele e il gruppo di Hamas, allargano il divario tra le persone e i loro governi, il divario tra terzo mondo e paesi sviluppati. La debolezza delle organizzazioni mondiali fa il resto e uno dei temi. Della convention, dialogo tra civiltà e democrazia globale, in corso a Catania, su iniziativa del Consorzio di Cooperative, il Nodo, in collaborazione con il professore Giovanni Pampanini, pedagogista che tra anni si occupa di relazioni internazionali. Se parlassimo di migrazioni, volgeremmo subito lo sguardo all'Africa e alle traversate nel Mediterraneo spesso, segnate anche da gravi tragedie. Ma in realtà le migrazioni interessano ogni angolo del pianeta, diviso di fatto in due grandi blocchi. Da un lato la libertà dei movimenti, dall'altro lato l'oppressione di chi dentro si sente libero come ogni essere umano, ma che resta invece vincolato e incatenato dalle leggi degli stati, spesso collusi o, dall'altro lato, incapaci a sostenere l'economia dei popoli. E così anche le semplici parole assumono nei due diversi blocchi significati, distanti, identità, educazione, solidarietà, sviluppo, democrazia. Il dialogo fra civiltà, noi stiamo affrontando la migrazione non come problema di un dramma personale o anche sociale, no, no, stiamo cercando di arrivare al problema attraverso l'approccio del dialogo fra civiltà. E quindi ci stiamo andando a discutere la democrazia, perché questa migrazione è un problema politico generale, non solo di un paese, ma di tutti i paesi del mondo. Quindi sì, stamattina abbiamo affrontato questo e chiaramente non è solo l'Europa. Stiamo parlando in definitiva di geopolitica. Perché a volte i governi latitano, comunque sono sordi e poi tocca alla società civile, alle associazioni, a chi lavora sul campo, dare il pungolo giusto alla politica, perché la politica possa trovare quelle che sono le giuste soluzioni. Lei mette il dito nella piaga. È verissimo. La migrazione, intanto da un punto di vista politico, è una materia molto controversa e i partiti si distribuiscono in un arco di risposte che variano moltissimo. Naturalmente c'è un problema di cultura di base e questo è il discorso del dialogo fra civiltà. Intanto le persone, il popolo, i popoli delle diverse nazioni hanno una grande difficoltà a inquadrare noi stessi, noi italiani, siamo stati, noi siciliani poi, paese di emigrazione e ci siamo sempre sentiti il sud di tutto l'universo. E invece ora siamo diventati un paese dove la gente passa e noi scopriamo che non c'è più la questione meridionale. C'è un cambiamento del mondo, come ha detto lei, c'è un problema di cambiamento della cultura come percezione di sé. E questo è un altro discorso molto importante. Noi ci percepiamo come cittadini del mondo e come si diceva stamattina, come giustamente ha detto il professore Veronese, c'è una parte privilegiata della popolazione che si sposta nella globalizzazione senza problemi, col passaporto europeo spesso, degli Stati Uniti o dei Canada. Il grosso della popolazione mondiale rimane imprigionata e con le ineguaglianze economiche spesso è costretta e lì si crea il problema del visto, le frontiere chiuse, la speculazione dei politici su questa paura. Lì si genera tutto questo bailame politico che certe volte è vergognoso. Torniamo in cronaca. A Catania un uomo di 55 anni approfittando della presenza di alcuni ponteggi in un cortile di una finestra lasciata socchiusa si sarebbe introdotto la notte scorsa in una stanza di un albergo del centro storico dove un turista stava dormendo, avrebbe sottratto, approfittando appunto del fatto che il turista stesse dormendo, avrebbe sottratto dalla borsa della vittima circa 6.200 euro in banconote, tra cui una di 10 sterline nuova di zecca, poi si sarebbe dileguato. Quanto contesto nei carabinieri all'uomo, i militari dell'arma hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza del cortile interno e hanno riconosciuto il 55enne, poi si sono recati nell'abitazione dell'uomo, l'hanno perquisita, all'interno sarebbe stata trovata una busta con il denaro rubato e la banconota da 10 sterline nuova di zecca. Il 55enne ha tentato la fuga provando a chiudere i carabinieri nella camera da letto ma i militari gliel'hanno impedito e lo hanno bloccato. Sono 4.600 i casi di tumore al seno registrati in Sicilia anno dopo l'anno. La prevenzione sta alla base della successiva cura che può portare alla guarigione. In Sicilia sono 4.600 i nuovi casi di tumore al seno ogni anno, di cui 3.400 in fase precoce. Grazie agli screening la malattia può essere individuata nei primi stadi. Circoscritta, operabile e non metastatica, ma l'aderenza del meridione è ancora insufficiente e lontana rispetto agli obiettivi previsti. In base alla diagnosi cambia il percorso affrontato dalle pazienti. Ad alcune viene diagnosticato il tumore con mammografia, ad altre per la presenza di sintomi o la comparsa di un nodulo indolente al seno che fa scattare la presa in carico. Oggi è affidata ad un gruppo multidisciplinare oncologico. L'Umanitas, istituto clinico catanese, è l'unica struttura nella meridione d'Italia accreditata è USOMA ed è stata recentemente inserita in ottava posizione in Italia per il numero di interventi effettuati di tumore al seno nel 2022. Oltre 900 pazienti di queste, quelle con tumore al seno in fase iniziale, negativo. esiste una nuova opportunità terapeutica perché i carcinomi ormonoresponsivi sono considerati tumori meno aggressivi ma in continuo incremento del rischio di recidiva. Le donne ricevono una diagnosi di carcinoma della mammella in due modi differenti. O tramite i programmi di screening che sono rivolti alle donne dai 45-50 anni in poi e che purtroppo hanno un'aderenza che è troppo bassa, soprattutto nelle regioni del meridione d'Italia. Alternativamente talvolta la donna può notare la comparsa di un nodulo al seno e allora può richiedere l'attenzione del medico per questo motivo. In Sicilia abbiamo oltre 4.500 nuovi casi l'anno. Umanitas in questo è una realtà di eccellenza che si distingue non soltanto per le competenze ma anche per la numerosità delle pazienti che vengono viste in questa struttura che nel corso dell'anno 2022 sono state poco più di 900 pazienti che fanno Umanitas di Catania l'ottavo centro italiano per numero di pazienti che sono state seguite in questa struttura per la patologia tumorale della mammella. Più di due terzi, quindi dal 65 al 70% dei casi di carcinoma della mammella che sono diagnosticati esprimono i recettori ormonali, cioè il recettore per l'estrogeno e il recettore per del progesterone che queste cellule adoperano per crescere e proliferare e da poco è stato approvato per le donne anche che hanno una malattia in fase iniziale un nuovo farmaco biologico che si chiama Abemaciclib che si può adoperare solo nelle donne con carcinoma della mammella ormonopositivo, cioè che esprime i recettori ormonali e che abbiano alcune caratteristiche di maggiore aggressività e quindi possano beneficiare di questa opportunità terapeutica aggiuntiva. viene somministrato per bocca, viene somministrato in maniera continuativa e viene associato a un'ulteriore terapia orale che è la terapia endocrina e il risultato più eclatante che è stato recentemente presentato al congresso europeo della società di oncologia medica ha dimostrato che questo farmaco riduce di oltre il 30% il rischio che le donne possono avere una recidiva cioè una ripresa di malattia. Nuovamente in studio dopo lo spazio pubblicitario non ci sono altre notizie dalla redazione dunque chiudiamo il giornale con il meteo. Queste le previsioni del tempo in Sicilia del 29 novembre vedete cielo sereno praticamente ovunque forse nubi in più nella zona tirrenica con qualche pioggia la giornata però sarà ventosa i mari saranno poco mossi quasi calmi le temperature adesso nel cartello che segue stazionari rispetto a quanto registrato oggi vedete però tra massima e minima soprattutto nelle zone centrali della Sicilia una notevole escursione termica. con il meteo noi ci salutiamo grazie per la vostra compagnia termina qui la seconda edizione di ora tg prossimo appuntamento con il telegiornale di re tv domani all'ora 14 buon proseguimento di serata a voi tutti